I just want you Ha svelato alcuni particolari del rapporto con l'anziana mamma e ha svelato anche la sua opinione sulle due donne della sua vita, Romina povera e Loredana Lecciso. Come spiegato da Albano tra le due non c'era molta simpatia ma nonostante questo Loredana si è sempre dimostrata molto rispettosa nei confronti della mamma del compagno. In tutta onestà, lo dico oggi che la mia storia con lei è finita, non ha mai detto nulla di male su mia madre. Il tempo è galantuomo. Grazie Albano. Fotocredits Instagram. Grazie. 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 Grazie.